Un piano senza interventi che non è affatto coerente con gli obiettivi di risanamento finanziario giudica così il programma operativo di riordino ospedaliero della Giunta Chiodi, il Partito dell'Italia dei Valori, il coordinatore regionale, senatore Alfonso Mascitelli. E' sovrastimato nelle entrate, è sovrastimato negli investimenti che dovrebbero fare e che sino adesso non hanno ancora fatto nella medicina dei servizi, nella medicina del territorio dove non è previsto la spesa neppure di un euro. Basta con il commissariamento della Sanità che non sta ottenendo i risultati speranti perché il deficit col quale si chiuderà il 2010 sarà né più né meno che quello del 2009. L'Italia dei Valori ha poi criticato il perdurare del commissariamento in diversi enti strumentali della Regione, compreso quello del parco regionale Sirente-Velino, la cui vicenda ha annunciato Gino Milano, arriverà domani all'esame della Commissione di Vigilanza. Solidarietà da tutta la dirigenza del partito è stata poi espressa a Lucia Pandolfi, ormai ex sindaco di Montereale, sfiduciata dopo le dimissioni di sette consiglieri comunali. Un fatto singolare per Carlo Costantini, con le inquadra in un disegno politico ben più ampio. Noi come Italia dei Valori andremo avanti fino in fondo in questa operazione verità e in questa operazione trasparenza e lo abbiamo fatto anche rivelando alcuni aspetti puntuali che convincono del fatto che il sistema di potere che governa l'Aquila sia trasversale per certi versi rispetto ai partiti politici, ma tenga in considerazione anche aspetti che interessano pochissimi e non la collettività. Ho ricordato la nomalia, la stranezza della nomina del commissario del Consorso Industriale della provincia dell'Aquila, è l'unico soggetto che non fa parte degli organici di Gino della Regione. Era stato nominato un funzionario della Regione che è stato dimissionato, si è improvvisamente dimesso per lasciare spazio a questo professionista che rappresenta all'unica eccezione la regola che i commissari dovevano essere organici alla Regione.